Sto provando ad andare un nuovo modo alla squadra perché sono venuto con questo obiettivo qua. Poi piano piano i compagni mi aiutano a entrarci dentro e sicuramente posso dare qualcosa. Quindi così possiamo andare avanti, però bisogna dare sempre qualcosa in più se vogliamo vincere. Oggi non sono riuscito a dare dall'inizio quella mentalità giusta e alla fine questo ci ha pesato negli ultimi 5 minuti.